Attenzione lo show del manzo, questa è una prova di manzo, ma tanto i denti sono suoi. Attenzione! In 3-10! Vai, vai! In 3-10! Vai, vai! Vai! Dai! Eeeh! Il combo! Ma tu sei due con la doppia, adesso metta. No, non è quello che avete fatto! Ma tu sei che favo cazzo! Oh, è chiarino, perché le due che ha mangiato il boomer erano quelle che erano avute per terra. Che merda! Nessuno dei due! Mi sa che mi sono perso la prima scena, figa!